Il primo tempo è stato un tempo tosto perché loro si chiudevano dietro e ripartivano in contropiede. Dobbiamo trarre esperienza dai gol subiti e cercare di prendere meno gol possibili la prossima volta. Il secondo tempo ho visto una grande reazione da parte di tutti. Mi sento di fare i complimenti ai ragazzi che sono entrati perché subentrare non è mai facile quindi abbiamo ribaltato la partita e questo pareggio dal mio punto di vista vale come una vittoria. Noi siamo grifoni dentro, non ci arrendiamo mai e penso che nelle ultime partite si sta vedendo questa nostra mentalità. Ho pensato a calciare forte e a tenerla più bassa possibile perché mi è rimbalzata davanti. Quando sei in aria purtroppo non è mai facile perché ci sono gli avversari davanti. Questo Perugia deve continuare su questa strada perché penso che questa è la strada giusta. Dobbiamo allenarci come stiamo facendo, dobbiamo rimanere il gruppo compatto che siamo e continuare su questa strada perché io penso che siamo sulla strada giusta. Ci portiamo dietro le prime giornate che la squadra si stava iniziando a formare e dalle ultime 11-12 partite stiamo dicendo la nostra.